Benvenuti a tutti, chi vi parla è Vincenzo Santomarco ed eccoci all'ultimo appuntamento di questa tribuna elettorale 2018. Siamo al cosiddetto confronto all'americana dove ai due candidati alla carica di sindaco del nostro bel paese verranno sottoposte dieci domande selezionate tra quelle, tra le numerosissime domande che voi telespettatori e radioascoltatori avete inviato alla redazione nei giorni scorsi. Proprio per questo volevo chiedervi scusa, volevo chiedere scusa a tutti quei telespettatori e radioascoltatori che purtroppo per una questione numerica, per una questione di spazio, per una questione tempistica non abbiamo potuto dar voce, le domande ne sono dieci altrimenti avremmo sovrapposto troppe domande e ai candidati avremmo dovuto dare troppo poco tempo per rispondere. Proprio per questo volevo informarvi che ad ogni candidato, ogni candidato avrà a disposizione un tempo massimo di quattro minuti per rispondere ad ogni domanda. Per garantire l'imparzialità del dibattito i due candidati hanno effettuato un sorteggio e in base a questo sorteggio per vedere insomma chi doveva rispondere prima e chi dopo. Prima di passare al vivo, di entrare nel vivo del dibattito, volevo dare il benvenuto ai due candidati alla carica di sindaco che sono qui a fianco a me, al candidato alla carica di sindaco Franco Marino, candidato con la lista numero uno, Crescere insieme con Marino Sindaco, e al candidato della lista numero due, Dionigi Neri, candidato alla carica di sindaco con la lista numero due, nuove idee per San Paolo, Neri Sindaco. Passiamo al vivo del dibattito e quindi iniziamo con le domande. Il primo a rispondere alle domande sarà il candidato alla carica di sindaco di San Paolo, Dionigi Neri, successivamente poi risponderà Franco Marino e così via poi viceversa. Ebbene, passiamo alla prima domanda. Allora, quali saranno le proposte e le iniziative che ritenete urgenti da adottare nei primi cento giorni del mandato? Prego. Grazie Vincenzo, salve a tutti. Nei primi cento giorni del mandato elettorale la nostra amministrazione renderà assolutamente accessibile i luoghi cult del nostro paese come la villa e il museo comunale. Per troppo tempo abbiamo visto la villa chiusa e invece deve essere assolutamente il luogo, l'agora culturale del comune di San Paolo di Civitate. Dovremmo quindi lasciare spazio a tutte le associazioni culturali che ne faranno richiesta per l'organizzazione degli eventi, soprattutto in vista dell'imminente periodo estivo. Inoltre, deve essere istituita una consulta con tutti gli esercenti delle attività commerciali e con gli agricoltori e pure con gli imprenditori. Buona sostanza, noi siamo per l'Unione fa la forza. Dobbiamo sederci tutti al tavolo delle trattative e stilare un disciplinare d'intesa che deve spaziare sia sulla sponsorizzazione dei prodotti agroalimentari e non ultimo sulla sponsorizzazione e sul rilancio culturale del nostro comune. Io poi vorrei anche aprire uno sportello sul comune o quantomeno avere un computer a disposizione per la pubblicità del nostro paese. Che cosa intendo dire? Noi abbiamo l'assoluta necessità di essere visibili e riconoscibili e questa visibilità ce la può dare benissimo internet con i social network. Io sono per costituire e fondare una pagina facebook del comune di San Paolo di Civitate nella quale settimanalmente deve essere sponsorizzata la nostra storia, quindi dall'inizio da Civitate e deve essere sponsorizzata anche la nostra agricoltura e sull'agricoltura poi incentivare il turismo anche dei cittadini dei paesi limitrofi. Quindi queste io ritengo che siano le cose da poter fare nel così breve tempo dei 100 giorni dal 10 di giugno. Grazie. Grazie, grazie a Dionigi. E ora passiamo la parola a Franco Marino. Ripeto la domanda. Quali saranno le proposte e le iniziative che ritenete urgenti adottare nei primi 100 giorni del mandato? Prego Franco. Grazie Vincenzo, buonasera a tutti. Per quello che ci riguarda noi abbiamo fatto un cronoprogramma che naturalmente non sarà limitato ai 100 giorni perché ci permetterà poi di fare la programmazione nel breve e soprattutto nel medio termine. Mi vengono in mente tutti i servizi che sono in scadenza e quindi rifare l'appalto per la gara per l'immondizia, rifare la gara per la gestione del bar della villa al quale è strettamente legato poi la possibilità di poter usufruire del nostro polmone verde che in passato ci hanno invidiato tutti nei paesi limitrofi. Un'altra urgenza, un'altra incombenza abbastanza cogente quindi che ci deve assolutamente interessare nel brevissimo tempo è quello di mettere a punto dei regolamenti per quando riguarda la organizzazione delle feste patronali e altre feste religiose che noi abbiamo. Attraverso questo regolamento noi riusciremmo ad evitare le rincorse ai vari permessi con le attività commerciali, con tutte le associazioni che vogliono interessarsi ad organizzare queste festività. Poi non ci dimentichiamo che dobbiamo assolutamente programmare le prossime stagioni scolastiche. e quindi di conseguenza iniziare per tempo a programmare la mensa scolastica, a programmare il funzionamento del pulmino. Per ultimo, me lo sono lasciato, dobbiamo iniziare ad impostare un programma che interessi anche la cultura perché la cultura può fare da volano alle attività commerciali che non sono limitate al periodo estivo. Certo il periodo estivo è importante perché comunque abbiamo il rientro di tanti nostri concittadini che sono fuori ma non dobbiamo dimenticare tutto il resto dell'anno. Noi abbiamo pensato ad esempio ad un premio che possa ricordare un nostro concittadino che è arrivato alla ribalta italiana e anche al di fuori dell'Italia che è l'architetto Petrucci. Abbiamo intenzione di stabilire un premio dedicato a questo architetto e naturalmente bisogna poi contattare e programmare con le famiglie. E poi non dimentichiamo che comunque oltre a Petrucci ci sono tanti altri nostri illustri concittadini che hanno bisogno di essere ricordati e quindi che hanno bisogno di mostrare, tra virgolette, far conoscere la loro attività di tipo artistico perché spesso noi non la conosciamo. Quindi questi saranno gli impegni a breve e spero di poterli realizzare nel più breve tempo possibile. Ebbene, passiamo alla seconda domanda, domanda che adesso verrà risposta prima da Franco Marino e dopo da Dionigi Neri. Ora, se e come intendete affrontare l'annoso problema della zona 167? Prego Franco. Dunque, questo è un problema che noi ci portiamo avanti da oltre 30 anni. Tutte le varie amministrazioni che si sono susseguite, alcune hanno fatto tentativi, altre hanno rinviato in modo, in modo, come dire, il problema per cercare di evitare di assumersi delle responsabilità. Il problema della 167 è in gestione all'OSL perché fa parte della massa debitoria che sarà gestita dall'organismo straordinario di liquidazione per quanto riguarda il discorso dei rimborsi. Purtroppo, e devo dire purtroppo, la Corte dei Conti impone le pubbliche amministrazioni a recuperare delle somme che possono interessare il privato. Gira voce che ci saranno dei ricorsi che comunque alcune famiglie, alcuni gruppi si stanno organizzando. Devo dire che il problema per noi è relativo perché se arriva qualsiasi sentenza di un giudice, di un qualsiasi giudice, che mi dice che il problema della 167 non è più in carico alle singole famiglie che hanno soffritto dei suoli, ma che deve essere in carico alla pubblica amministrazione, allora noi dovremmo trovare il modo per risolvere questo annoso problema. Sicuramente dovranno essere perfezionati dei roggiti e tutti quanti voi sapete che nella 167 esiste un chioschetto che era nato per essere dato in gestione a dei privati e quindi per dare dei servizi a quel quartiere che non può e non deve essere considerato un quartiere dormitorio. Tant'è vero che le passate amministrazioni si sono preoccupate di dare dei servizi in pianti sportivi e hanno previsto anche questo chiosco che deve andare in gestione e per poterlo dare in gestione devono essere perfezionati dei trasferimenti che hanno solo un problema di tipo burocratico. Abbiamo anche quella che è ormai conosciuta da tutti come la piscina comunale, purtroppo i soldi per completare l'opera non sono più sufficienti per cui anche nel grosso problema della 167 noi come gruppo abbiamo messo anche la riqualificazione per evitare che diventi una cattedrale nel deserto. Ci preoccuperemo di rifare un progetto perché sembra che il CONI che ha finanziato quella struttura è disposta a farci mantenere quel finanziamento perché quella struttura sia destinata ad un'attività sportiva. Vi ringrazio. La questione della 167 è un'eredità che in molti non avrebbero accettato o al più avrebbero accettato con beneficio di inventario. È un problema, come diceva anche Franco, che è annoso proprio perché deriva da delle politiche di qualche lustro fa, sei lustri fa. Io penso che questo sia un problema assolutamente serio ed è serio sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista politico. Dal punto di vista giuridico io sono d'accordo con Franco perché effettivamente l'amministrazione comunale dovrà necessariamente ingiungere il pagamento delle somme ai cittadini che abitano la zona 167 perché se non lo facessero potrebbero avere delle ripercussioni non solo di carattere civile, quindi responsabilità civile ma anche e soprattutto di carattere penale. Dal punto di vista politico è anche un problema è un problema perché ovviamente nessuno che magari è stato eletto dai cittadini può o vuole mettere le mani in tasca alle persone che abitano la 167. Quindi qual è su questo punto l'impegno che io con l'amministrazione, con la nostra lista ci prendiamo, è valutare la possibilità di redigere contratti di transazione tra l'ente pubblico e i cittadini privati subordinando l'efficacia di questi contratti al placet degli organi superiori di questo tipo, la Corte dei Conti. Questo perché lo dico? Perché io mi rendo conto benissimo che l'autonomia decisionale dell'ente pubblico è completamente diversa da quella del soggetto privato e quindi è necessario che questo tipo di transazioni debbano avere il placet dalla Corte dei Conti che come detto anche da Franco ci impone di chiedere di ingiungere queste somme. Tuttavia però il discorso da fare anche con l'ente, con la Corte dei Conti è semplicemente questo. Se noi inviassimo le ingiunzioni di pagamento di sicuro avremmo delle opposizioni da parte dei cittadini. Queste opposizioni richiedono necessariamente la difesa del Comune e quindi il Comune dovrebbe dare incarico a dei colleghi per difendersi e quindi sarebbe un costo che nella situazione attuale e disastrosa del bilancio comunale noi assolutamente non possiamo permetterci. Per questo io mi adopererò in maniera fattiva alla mediazione tra gli interessi dell'ente e quelli dei concittadini. Passiamo alla terza domanda. Alla luce dei vincoli di bilancio come pensate di finanziare servizi essenziali non finanziabili da progettualità esterne ad esempio scuolabus, mensa, aiuto alle famiglie in povertà? Prego Dionigi. Grazie Allora è da dire che questi servizi di cui parli sono cosiddetti servizi a domanda vuol dire in buona sostanza che il costo del servizio viene in parte pagato dall'ente comunale mentre la differenza deve essere necessariamente versata dal cittadino. Mi pare che ad oggi il costo sostenuto dal comune sia pari al 35-40% e quindi il 60% di questo costo è versato direttamente dal cittadino di San Paolo di Civitare. Ora io molto onestamente ritengo che visto il bilancio comunale è difficile nell'immediatezza che questa questione cambi è difficile spostare questa percentuale in favore del cittadino però se riuscissimo per esempio a fare le transazioni con i cittadini per la 167 cioè con tutti quei cittadini che eventualmente volessero pagare le somme richieste dall'ente noi avremmo ovviamente una disponibilità economica che ad oggi non abbiamo e quindi questa percentuale potrebbe essere spostata in favore del cittadino. Discorso diverso va fatto per le famiglie che versano in condizioni disagiate. In primis noi cercheremo di aiutare queste famiglie offrendole un lavoro ad esempio si potrebbero richiedere i finanziamenti per la garanzia giovani che può essere attivato non solo dagli enti privati ma anche dagli enti pubblici oppure qualche ragazzo potrebbe essere interessato al sistema borse lavoro qualora però abbia i requisiti che sono tassativamente e necessariamente indicati dalla legge. Quindi qualora ci fosse qualche ragazzo in difficoltà o anche qualche persona più adulta che però abbia i requisiti previsti dalla legge la borsa lavoro potrebbe essere un valido sostentamento certo non è una retribuzione però è un sostentamento che potrebbe servire a qualche persona che è versa in condizioni disagiate. Ancora noi poi per quanto riguarda i minori vorremmo incentivare l'affidamento familiare perché adesso il comune paga delle strutture preposte ad hoc e il costo per mantenere un minore in queste strutture è di circa 100-120 euro al giorno invece noi incentivando l'affidamento familiare potremmo portare la retta mensile a 350-400 euro al mese per la famiglia ospitante così da garantire un sostentamento per la famiglia che ospita e una condizione migliore al minore in difficoltà. Grazie, ripeto la domanda. Alla luce dei vincoli di bilancio come pensate di finanziare servizi essenziali non finanziabili da progettualità esterne scuola, bus, menze, aiuto alle famiglie in povertà? Prego Franco. Questo è un annoso problema il discorso dei servizi sociali vengono da una gestione molto particolare in precedenza allora noi abbiamo un grosso handicap che è quello che manca una professionalità all'interno del nostro comune attraverso l'assistente sociale si possono mettere in atto delle forme di aiuti alle famiglie aiuti ai minori e fare campagne di prevenzione per i minori a rischio però senza la figura dell'assistente sociale noi siamo vincolati da questa possibilità per quanto riguarda il discorso degli affidi è un problema legato a due ordini di motivi uno perché spesso i minori che vengono affidati alle comunità vengono affidati attraverso l'ordinanza di un giudice alla quale purtroppo bisogna dare seguito purtroppo le campagne di affidamento dovrebbero interessare famiglie anche al di fuori della nostra comunità perché spesso i minori vengono allontanati dalle famiglie perché le famiglie versano in condizioni socio-economiche particolari per cui è un cammino lungo da fare io sono d'accordo che bisogna incentivare l'affido familiare perché mettere dei minori in una famiglia ancorché non propria ma in una famiglia permette di subire in modo minore il trauma dell'allontanamento dai genitori biologici per quanto riguarda lo scuola bus noi abbiamo un mezzo che è ormai obsoleto e che ha bisogno di manutenzione speriamo di riattivarlo a breve io ho preso l'impegno con i miei candidati per rimetterlo in moto prima della campagna della scolastica prossima tant'è vero che i miei proventi che derivano dall'incarico se verrò eletto verranno utilizzati come primo step per riattivare il servizio di scuola bus poi abbiamo pensato anche a delle forme di sponsorizzazione ci sono tante ditte che potrebbero sponsorizzare attraverso l'apposizione di spazi pubblicitari sullo scuola bus e potrebbero comunque dare dei subvenzionamenti che potrebbero essere utilizzati sia per il costo vero dello scuola bus perché non ci dimentichiamo che abbiamo dei bambini che abitano fuori i cui genitori hanno difficoltà ad accompagnarli alla scuola e sia per utilizzarli all'interno della mensa quindi questi sponsor potrebbero darci una mano Passiamo alla quarta domanda Come intendete gestire l'attività di riscossione dei tributi? Prego Franco Devo dire che sono delle domande molto impegnative e molto ostiche Allora, per quanto riguarda il discorso della gestione dei tributi noi abbiamo una società che gestisce la riscossione e che, come tutte le società, ha un agio per la riscossione dei tributi che spesso supera ciò che l'ente potrebbe permettersi Dobbiamo assolutamente rivedere le modalità di riscossione Dobbiamo assolutamente salvaguardare le professionalità che sono utilizzate sia all'interno del comune sia dalla società di gestione e pensare a un modello di riscossione improprio Non ci dimentichiamo che esiste un annoso problema Fra qualche anno noi avremo il personale che si ridurrà in modo visibile perché parecchi sono a fine carriera e quindi hanno il diritto di andarsene in pensione Per cui bisogna pensare a un sistema di riscossione nuovo eventualmente tenendo conto di quella che è la banca dati perché vi ricordo che qualche anno fa è stata affidata alla società di gestione esterna perché mancava una banca dati nel comune di San Paolo Sembra che questa banca dati sia stata messa a punto per cui è possibile utilizzare questa banca dati e eventualmente aggirare la società esterna se ci saranno le condizioni Ripeto, sempre salvaguardando le professionalità che abbiamo avuto formate sul campo Ebbene, ripeto la domanda Come intendete gestire l'attività di riscossione dei tributi? Prego Dionigi Grazie Allora, la riscossione dei tributi è forse la voce del bilancio che spaventa un po' tutti Io già in altre occasioni ho detto che cosa avrei intenzione di fare e però prima di dirvi questo vi faccio una breve analisi della questione Noi abbiamo un'evasione molto elevata a San Paolo questa è dovuta a una serie di circostanze Un po' perché non c'è liquidità nelle case dei cittadini san paolesi Un po' perché magari abbiamo un mal costume che è quello di affittare le case utilizzando non lo strumento del contratto di locazione ma eventualmente quello di comodato d'uso e quindi diciamo bypassare la norma che impone il pagamento dei tributi Detto questo, io mi rendo conto che per avere una società ideale c'è bisogno di un cambiamento culturale che richiede del tempo e noi purtroppo questo tempo non l'abbiamo Cosa potremmo fare però per cercare di venire a capo della situazione? Io anche nella precedente e nella prima intervista ho detto che nel 2020 scade il contratto della Soget S.p.A. che è l'agente di riscossione incaricato dal comune di San Paolo di Civitati per questo ambito Io ho intenzione, qualora dovesse avere il vostro voto di eliminare o meglio di non rinnovare questo contratto formando da giugno di quest'anno fino alla scadenza del contratto della Soget i dipendenti comunali cioè facendo vedere proprio fisicamente come si fanno i calcoli attraverso le banche dati che effettivamente noi nel comune di San Paolo di Civitati già abbiamo il problema è quello dei soggetti, delle persone che già lavorano per la Soget che sono di San Paolo di Civitati e questo problema noi lo risolveremmo attraverso la costruzione di una società partecipata mista che avrà quindi come azionari sia soggetti privati che il comune di San Paolo di Civitati e quindi non sarà il comune che non può farlo in questo momento storico ad assumere questi due dipendenti bensì sarà quest'altra società soggetto di diritto privato a fare l'assunzione dei due ragazzi che già lavorano per la Soget S.P.A. io vi voglio solo sottolineare questo la Soget ci costa 90.000 euro all'anno per inviare le ingiunzioni di pagamento qualora poi qualcuno volesse pagare la somma ingiunta deve aggiungere a quella somma il 27% in più di agio che va direttamente alla Soget quindi è un salasso che il comune può e deve risparmiarsi noi potremmo risparmiare facendo formazione diretta ai dipendenti comunali e quindi loro percependo lo stipendio che già percepiscono affronteranno anche il problema della riscossione dei tributi con 90.000 euro noi riusciremo poi a mettere all'anno risparmiati riusciremo a mettere da parte delle somme sia per i servizi sociali e quindi per la mensa per lo scuolabus e per gli altri settori riducendo il costo di quei servizi a domanda che invece adesso spettano purtroppo ai cittadini inoltre sempre con questa somma che andremo a risparmiare noi incentiveremo la pubblicità del nostro paese attraverso la radio attraverso i manifesti pubblici attraverso ogni canale possibile di pubblicità passiamo alla quinta domanda allora nessuno dei due candidati sindaci ha inserito nel proprio programma la questione del parco regionale del Medio Fortore il parco viene visto da voi come una negatività o come una opportunità e quali saranno le iniziative che intenderete promuovere a riguardo prego Dionigi sì allora molto molto brevemente sì è vero noi non abbiamo messo un punto del programma relativo al parco ma semplicemente perché noi non siamo contrari al parco ovviamente per questo motivo non abbiamo inserito diciamo un punto nel programma tuttavia anche il parco rientra di diritto nel programma non solo dell'agricoltura ma anche del turismo culturale in primis io voglio sottolineare che qualsiasi questione tipo quella del parco ha sempre due facce della medaglia può essere vista in un modo oppure nell'esatto modo contrario ci sono per esempio io ricordo quando c'è stata l'istituzione del parco che molti agricoltori non hanno visto di buon occhio questa scelta e magari altri hanno considerato le potenzialità che il parco poteva avere allora qual è l'obiettivo che secondo me un'amministrazione deve avere su questo punto deve cercare di mediare gli interessi delle agricolture che si sono ritrovati diciamo nel parco e quindi sottoposti ai vincoli che il parco stesso diciamo ha e i benefici che il parco come veicolo può avere quindi è semplicemente questa la soluzione migliore noi dovremmo e vorremmo utilizzando diciamo ovviamente le norme rideterminare il parco così da farlo rimanere sul territorio del comune di San Paolo di Civitate ma solo per i terrini demaniali e quindi escludere dalla geografia diciamo del parco i terrini privati così potremmo diciamo avere la possibilità di sponsorizzare e utilizzare il veicolo parco nel settore turistico e anche agricolo soprattutto quello biologico e terrimo diciamo contenti invece quegli agricoltori che con il parco quindi con i vincoli del parco non riescono più a coltivare le colture normalmente quindi questa è la verità è chiaro che è una cosa da approfondire bene perché bisogna ovviamente vedere se questo è possibile cioè rideterminare i confini ma credo proprio di sì ripeto la domanda nessuno dei due candidati sindaci ha inserito nel programma la questione del parco regionale del medio fortore il parco viene visto da voi come una negatività o come un'opportunità e quali saranno le iniziative che intendete promuovere al riguardo prego Franco allora la questione del parco è un'eredità che ci viene anche dalle passate amministrazioni parco sì parco no positività o negatività allora noi abbiamo dei terreni sia comunali che privati che hanno già dei vincoli sui quali gravano già dei vincoli per cui il parco non ha fatto che altro che includere in un unico perimetro questi terreni io ricordo qualche tempo fa ci fu una conferenza dove venne chiesto da parte dei cittadini l'esclusione dei terreni che non erano già soggetti a vincolo il parco il parco può essere una grossa opportunità per il territorio di San Paolo perché può portare finanziamenti può portare marchi di qualità dei prodotti agricoli ma il comune non è in grado poi di promuovere da solo questa come dire questa possibilità dare questa opportunità per cui dobbiamo impegnare assolutamente ed in modo vincolante la regione che ci faccia da marketing perché i vincoli che porta sui terreni non vincolati non possono rigadere sui privati su terreni che già hanno dei vincoli ante quindi prima dell'istituzione del parco noi potremmo assolutamente sfruttare questa opportunità e però impegnare in modo diretto la regione perché quando va a promuovere per esempio il parco del Gargano il parco della Murgia o il parco del Salento deve promuovere assolutamente anche il parco del Medio Fortore quando va a fare lo stand alla BIT cioè alla Borsa italiana del turismo deve fare uno stand per il Comune di San Paolo ma deve finanziarlo lei perché noi non abbiamo le opportunità di finanziamento quindi di questo comunque ne parleremo appena dopo l'insegnamento nelle consulte e se è il caso indiremo anche un referendum con i cittadini che ci permetta poi di sapere qual è il desiderio della maggioranza dei cittadini una cosa è certa così come sta adesso il parco che è stato lasciato a se stesso non può andare avanti quindi bisogna decidere tutti insieme quale sarà il destino il destino può essere quello di una rivalutazione ma con un impegno preciso puntuale e vincolante da parte della regione altrimenti se dobbiamo avere così come succede per tante altre cose solo gli oneri io credo che dovremmo portare poi al giudizio dei cittadini questa opportunità questa necessità di esprimersi di esprimersi di esprimersi